Buongiorno a tutti, un particolare ringraziamento al settore patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna che finalmente ha aperto una nuova stagione legata allo studio e alla valorizzazione dei giardini storici. Prima bisogna ringraziare Carlo Tovoli, il quale di sua quasi spontanea iniziativa appunto aveva avviato già anni fa un'iniziativa che va alla funzione di valorizzare un po' tutte le aree verdi della Regione. Speriamo che almeno le premesse sono veramente ottime, che questa cosa vada avanti e che anche grazie e soprattutto grazie all'attività del Ministero della Cultura finalmente anche in Italia si sta aprendo una finestra importante sulla valorizzazione di un bene culturale come il giardino storico che era stata per molti anni trascurata. Per quanto riguarda i giardini storici dell'Emilia-Romagna, anche sulla base degli ultimissimi dati che sono emersi, tenere una relazione illustrativa in 20 minuti, ma neanche in un giorno, sarebbe impossibile. Per cui ho cercato di sintetizzare, facendo proprio una velocissima carrellata su alcuni giardini non per questo i più importanti, ma significativi per quanto riguarda una suddivisione tipologica che considera l'epoca, lo stile, la destinazione d'uso e anche un tema abbastanza discusso in Italia che è quello della rievocazione e ricostruzione del giardino. Per quanto riguarda l'epoca ho usato poi un criterio che non è esattamente quello storico nella divisione dell'epoca, quindi giardino moderno e giardino contemporaneo, ma poi se volete ne possiamo parlare alla fine, nella fase della discussione. Per quanto riguarda l'epoca dei giardini moderni e giardini contemporanei, cioè giardini moderni fino al 45 e contemporanei dopo il 45. Per quanto riguarda lo stile, non sono andato nel dettaglio del giardino medievale, giardino rinascimentale, perché in Emilia Romagna praticamente non ce ne sono. Quindi giardini formali o geometrici o regolari e quelli irregolari o paesaggistici. E poi il giardino misto, che è un giardino che è sempre comunque stato presente dall'Ottocento in poi. Per la destinazione d'uso, giardini pubblici che possono essere ripartiti in giardini ex-ducali o ex-nobiliari che sono poi stati utilizzati in seguito all'Unità d'Italia o per volontà degli stessi sovrani come giardini pubblici. Poi giardini privati, anche questi acquisiti da amministrazioni pubbliche e diventati poi parchi pubblici. E infine giardini pubblici realizzati ad hoc, cioè pensati proprio per una città. Inoltre ci sono i giardini privati, gli orti botanici e i giardini e orti monastici. Poi non ho pensato alle case d'autore o a quelle dei musei, anche perché rientrano un po' in queste tipologie fondamentalmente. Per esempio c'è il museo Ricciodi di Piacenza, che è un bel giardino progettato dall'architetto Arata che era una residenza privata e poi è diventato pubblica. Adesso questa è una rapidissima carrellata, giardini formali tipo quello di Montegaio, a Montecavo di Quattrocastella e il giardino Beltrame a Denore. Diciamo che questi sono giardini, il secondo è molto probabilmente, non ci sono dei dati, infatti per questo che bisognerebbe approfondire anche lo studio storico, non ci sono dei dati storici attendibili, però è probabilmente un intervento del 1880-1890 quando nella parte anteriore fu realizzato probabilmente questo parterre formale e nella parte posteriore il giardino paesaggistico all'inglese, che poi è stato devastato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi è stato ricostruito un giardino ma senza un disegno particolare in tempi più recenti. Un giardino molto interessante è quello, il giardino Galvani a Vignola, che è un giardino pensile, si situa praticamente su quello che resta della vecchia cinta muraria bastionata della città di Vignola e fu realizzato nei primi anni dell'Ottocento. Anche questa è una cosa molto piccola, ma molto curato, molto strutturato ed è interessante perché diciamo che va contro quella che era la moda del tempo, cioè viene realizzato in pieno periodo di giardino paesistico all'inglese un giardino all'antica, come lo chiama poi lo stesso erede del proprietario che lo realizzò. Dove c'è un teatro di Verzura ci sono due stanze verdi, due capine verdi all'italiana e poi c'è una piazza centrale che serviva poi anche per contenere i fiori, le fioriture, i vasi in fiore che venivano poi tenute nella Torre Serra in inverno. E qui ci sono l'immagine dall'alto, una foto aerea, poi si vedono le stanze interne. La prima a destra è proprio il teatro di Verzura che veniva utilizzato proprio per le rappresentazioni teatrali, per spettacoli e per concerti. Giardini irregolari, cioè giardini all'inglese, giardini paesistici, li troviamo distribuiti un po' ovunque in regione, uno interessante, pochissimo conosciuto, la tenuta di Zenzalino a Ferrara, un giardino realizzato presumibilmente intorno alla metà dell'Ottocento, perché nel 1850 praticamente il giardino passò di proprietà, era dei conti trotti che erano dei nobili legati alla cortestense e nel 1850 lo vendetero all'attuale famiglia proprietaria e quindi la realizzazione del giardino è intorno a quegli anni. molto articolato, con aggiunte, per esempio nel 1880 viene inserito questa capanna svizzera che è uno dei mast, dei giardini dell'Ottocento, soprattutto nella nostra area. Poi a destra in basso la torre Colombaia, poi al centro in realtà quello è un pozzo che è stato ingentilito in quella maniera. Un altro giardino irregolare molto interessante è il giardino Spalletti-Trivelli a Casa Grande di Reggio Emilia, in realtà San Donnino, la frazione, ed è uno, forse il più grande giardino paesaggistico che abbiamo in regione, sono 33 ettari, considerando che il giardino Margherita di Bologna è 26 ettari. Giardino privato di una famiglia ricchissima all'epoca, ha un po' tutti gli elementi del giardino all'inglese, alcuni si sono alterati, comunque si sono persi nel corso del tempo, ma è una realtà veramente interessante. Per quanto riguarda i giardini pubblici, i giardini formali, da giardino ducale a parco pubblico, il progetto del Petitot, siamo a Parma, c'è stata poi una recente ristrutturazione che ha ridato valore e dignità al giardino parco storico e questo è un esempio della corte, giardino ducale, che con l'unità d'Italia è stato acquisito dal comune, e quindi utilizzato come parco pubblico, con tutti i pregi e difetti poi dell'utilizzo pubblico, perché nel corso dei decenni ha avuto poi anche delle alterazioni dovute proprio a realizzazione di pista ciclabile, realizzazione di chioschi, di area all'aperto per i bar, e quindi con l'intervento di Restauda è stato un po' ricondizionato a una struttura originaria. Giardino Gandini di Formigine, una proprietà privata appunto dei Gandini, e poi fu venduto al comune, qui nella villa c'è la sede della biblioteca, e quindi il giardino storico è stato poi utilizzato come parco pubblico e anche lì sono stati degli interventi non sempre congrui. Il giardino storico è poi stato ampliato con un parco dedicato alla resistenza, quindi parchi da memoria, che per fortuna è stato fatto al di fuori, nei terreni agricoli al di fuori del giardino storico. I giardini Margherita di Bologna, ne abbiamo già accennato, questi furono proprio progettati ad hoc per la città di Bologna, cioè proprio pensati come un parco pubblico. In Emilia ci sono fondamentalmente Bologna, Reggio Emilia e Parma, che più o meno in questo arco di tempo realizzano dei giardini pubblici, chiamando poi dei personaggi di grido per l'epoca, perché qua viene chiamato il conte di San Bui, che era il soprintendente dei giardini pubblici di Torino, e aveva già progettato altri interventi nella città. A Reggio viene chiamato l'architetto Giuseppe Bazzaretto, famoso in area lombarda anche per giardini importanti, e a Piacenza viene chiamato Giuseppe Roda, uno dei due fratelli, celebrare i miei fratelli Roda, che erano giardinieri reali, cioè dei re di Savoia, e che progetta appunto a Piacenza il giardino Margherita, Margherita perché siamo nell'epoca in cui regnava Umberto I, e quindi l'intitolazione è la regina. Tra l'altro qui il Comune di Piacenza aveva acquistato un'area già sistemata a giardino privata, e visto appunto a seguito del battimento delle mura ci fu la possibilità di espandere l'area, quindi il giardino fu demolito e venne ricostruito interamente. Secondo gli schemi dell'epoca, che poi fondamentalmente tra giardino pubblico e giardino privato non cambiano, sono più o meno gli stessi, se non per quanto riguarda le dimensioni dei viali, proprio per consentire di avere un accesso largo come presenza numerica. Altri elementi importanti nell'ambito dei giardini storici sono i parchi della rimembranza, spesso dimenticati, i parchi della rimembranza hanno origine praticamente nell'immediato dopoguerra, quando nel novembre del 1922 il sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione ebbe l'idea di piantare un albero per ogni caduto e utilizzando poi le scuole, quindi la funzione era non solo evocativa o rievocativa, ma anche formativa, ad esempio per le scuole. L'onorevole era Dario Lupi e in moltissime città si realizzarono o parchi della rimembranza o viali della rimembranza o piazze della rimembranza. Qua sono due esempi, quello di Modena e quello di Fidenza. Ecco, questi parchi poi sono caduti nell'oblio e soprattutto a seguito del centenario della Prima Guerra Mondiale hanno ripreso un po' vigore, un po' attenzione. in alcune, l'ho constatato personalmente, in alcuni comuni il parco di rimembranza è stato praticamente spienato, adesso non dico quale comune c'è un parcheggio, e nonostante ci fosse un vincolo, ma un vincolo prebellico. Ecco, per quanto riguarda i giardini privati, ma poi anche i parchi pubblici, ci sono i giardini misti, cioè giardini che hanno un impianto tipicamente paesaggistico, ma che non rinunciano a degli elementi formali. In Italia, diciamo, ma anche in altre parti del mondo, cioè in altre parti d'Europa, l'elemento formale non scompare mai del tutto, anche con la rivoluzione del giardino paesaggistico, del giardino all'inglese. E in molti casi, ma anche in Lombardia, per esempio, diciamo nella prima metà dell'Ottocento, c'è una coesistenza tra elementi formali ed elementi irregolari, tra elementi geometrici e elementi irregolari. Questo è un giardino malenchini a Carignano che fu costruito verso la fine dell'Ottocento, e poi successivamente ampliato. Lo acquistò un industriale ligure genovese, Raggio, che fu poi indagato per uno dei primi scandali di corruzione. Aveva ottenuto la parte della costruzione delle ferrovie e lo regalò alla figlia Fortuny che sposò poi il marchese Malenchini. E quindi ecco perché il nome è Malenchini. Questo viale prospettico è all'interno di un parco all'inglese ed è chiaramente un elemento tipico, diciamo, della tradizione precedente del giardino all'inglese, cioè il classico canocchiale ottico del giardino alla francese che volge verso l'infinito, in questo caso verso le colline. La siepe che contorna il viale in realtà è stata aggiunta in epoca successiva. Giardino eclettico, il castello di Grazzano Visconti che è stato costruito dal duca Visconti di Mondriano che tra l'altro diciamo lui era un po' un bohemian come persona, però aveva avuto la fortuna di sposare la figlia di uno dei primi dell'industriale che fece una delle prime industrie chimiche italiane che è Carlo Erba che aveva quindi un ingente patrimonio e quindi grazie al patrimonio della moglie riuscì a costruire a fare questo a realizzare questo complesso che parte da un castello vero e poi viene insomma in parte modificato lo stesso castello e viene creato anche un complesso artigianale che aveva la funzione non solo di dare ospitalità agli artigiani che lavoravano diciamo alla tenuta ma anche di fornire mano d'opera al territorio e quindi anche creare posti di lavoro e queste diciamo questa tipologia si riscontra poi c'è questa intenzione di creare dei piccoli borghi produttivi è presente poi anche in altre parti d'Italia il giardino viene realizzato in questo caso in epoca diciamo intorno al 1910 1914 mentre prima si era dato diciamo la priorità alla costruzione della parte edile e comprende un giardino all'inglese degli elementi all'italiana degli elementi alla francese quindi è diciamo un po' una sorta di guazzapuglio di stili che viene appunto chiamato giardino eclettico ma ci sono poi non è solo l'unico esempio in Italia ce ne sono anche molti altri ed è interessante per esempio forse si vede male ma in basso in una foto in basso a sinistra si vedono delle piante topiate che sono tratte praticamente sono tipiche della tradizione barocca in particolare c'è un taccuino di appunti di Andrea Le Not che indica anche queste forme si vede la eterogeneità del giardino dal punto di vista stilistico la casetta che si vede nella foto in basso a destra è la casa dei giochi per i bambini di famiglia dimenticavo di dire che tra i bambini di famiglia c'era anche Ducchino Visconti diventerà poi il famoso regista un altro giardino interessante è quello di De Verge che prende il nome del primo proprietario cioè primo insomma in realtà proprietario intermedio comunque quello che fa costruire la villa che è un orientalista un archeologo francese e poi quando negli anni 30 cioè lui è morto l'acquista negli anni 40 dell'800 muore passa agli eredi gli eredi la vendono e viene comprata da acquistata un principe romano che aveva rapporti aveva già avuto rapporti con Pietro Porcinai quindi lo chiama e tra il 36 e il 40 Porcinai lavora alla ristrutturazione di questo giardino e e ci sono è molto interessante perché è uno degli lavori giovanili di Pietro Porcinai e e qua si vede ancora diciamo la vecchia matrice la matrice originaia lui partiva dalla storia diciamo dell'evoluzione della storica del giardino e ripropone reinventandoli e riassemblandoli degli elementi tipici della appunto del giardino barocco del giardino all'italiano e del giardino all'inglese quindi di fatto si può considerare un giardino eclettico infatti il fronte cioè questo è il prospetto principale della villa ha un'impostazione della francese poi in basso nella foto piccola a sinistra si vede il giardino all'italiana che era una faccia una finestra sul mare perché da qua siamo a Rimini cioè siamo in comuni Rimini per cui si vede la proprio la faccia al mare e a destra si vede quello che resta di un pergolato proprio disegnato da Porcinai e questo è una sorta di padiglione nel percorso a Pergola che è molto evocativo perché sembra essere quasi una tela di uranio e sotto si vede l'insieme dove si notano le varie parti di questo giardino cioè all'inglese alla francese all'italiana giardini contemporanei qua il giardino a caffè arti e mestiere a Reggio Emilia sempre sul progetto di Pietro Porcinai e qui però siamo nell'ultima fase infatti si vede ha un linguaggio espressivo completamente diverso rispetto alle prime realizzazioni tra l'altro questo si è concluso proprio l'anno della morte di Porcinai ecco poi un accenno agli orti botanici visto che abbiamo rappresentante anche quelli universitari sono Bologna Parma e Modena il più antico è quello di Bologna però la sede attuale risale al 1803 durante poi diciamo il piano di sviluppo urbanistico avviato praticamente dall'amministrazione napoleonica poi ci sono gli orti più recenti quello di Modena e Parma quello di Modena nel 1771 legato alla riforma dell'università fatta a Francesco III anche se c'era già in realtà uno spazio dedicato a dimostrazione dei semplici almeno 20 anni prima e l'orto botanico di Parma che anche quello è settecentesco leggermente più petardo rispetto a quello di Modena ed è sempre comunque legato all'università quindi gli orti botanici non solo come contenitori di biodiversità di specie vegetali ma anche come di memoria storica e di collezioni botaniche che vengono tuttora conservate gli erbari i documenti di ricerca un altro aspetto interessante sono gli orti ormai sono verso la fine sono gli orti botanici scusate gli orti monastici orti e giardini monastici il problema è che quasi tutti gli orti se non tutti i giardini monastici sono diciamo delle riedizioni dei rifacimenti cioè non abbiamo dei giardini monastici antichi perfettamente conservati anche perché ci furono le soppressioni napoleoniche prima delle soppressioni napoleoniche ci furono le soppressioni dei vari regnanti alla fine del settecento poi ci furono le soppressioni napoleoniche per cui ebbero un lungo periodo di non uso di abbandono e poi lentamente molti furono riaffidati agli ordini religiosi e in altri casi invece non furono destinati ad altri usi o addirittura completamente abbandonati ecco questa è un po' la carrellata allora volevo anche così due considerazioni due riflessioni un po' sulla sui giardini storici sensulato cioè su quelle che sono le rievocazioni e le ricostruzioni questo è un tema diciamo molto dibattuto nell'ambito scientifico in Italia per esempio si tende a non farle o evitarle assolutamente e questa è la carta di Firenze quando un giardino è totalmente scomparso l'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali avrà allora caratteri dell'evocazione o della creazione escludendo totalmente la qualifica di giardino storico questo è facilmente intuibile portato infatti due esempi che non c'entrano nulla con i giardini storici ma sono il museo archeologico di Monterenzo in provincia di Bologna e la terra amara di Montagna in provincia di Modena dove praticamente hanno ricostruito dei modelli di abitazione e nessuno si è mai sognato di chiamarli abitazioni storiche ma ricostruzioni storiche così come questa cosa va ovviamente applicata anche ai giardini storici cioè se una parte viene ricostruita quella non è un giardino storico ma è una ricostruzione di un giardino storico cioè questo dal punto di vista diciamo formale ma anche sostanziale è importante comunicarlo il giardino allora non sono moltissimi gli esempi di rievocazione e ricostruzione di giardini storici in Emilia Romagna però ce ne sono due importanti e significativi ce n'è anche poi un altro in Romagna per esempio il giardino Ducale di Sala Baganza dove si vede l'area verde in alto interessata all'intervento che era precedentemente all'intervento era praticamente era uno dei campi coltivati quindi terreni agricoli il giardino era completamente scomparso e viene ridisegnata su una planimetria storica per ridare perlomeno un po' la fisionomia del giardino precedente non vengono rifatte le aiuole non vengono rimesse le collezioni di fiori ma una cosa molto semplice che ricollega idealmente il palazzo quello che resta del palazzo della rocca con il giardino che peraltro aveva mantenuto la perimetrazione cioè il muro perimetrale ecco in questo caso la comunicazione ufficiale parla di giardino storico e di giardino restaurato in questo caso non è né storico né restaurato ma si tratta proprio di una ricostruzione così come adesso ne abbiamo parlato anche Colorno che è una diciamo è diventato un elemento di forte attrazione turistica perché all'interno di un giardino ottocentesco voluto trasformato diciamo rispetto alla precedente sistemazione settecentesca in giardino all'inglese di Maria Luigia da parte della duchessa Maria Luigia d'Austria viene praticamente ricostruito un parterre del giardino presistente settecentesco però questo dal punto di vista diciamo procedurale non è non è stata un'operazione giusta ma lo dico senza insomma diciamo in amicizia in simpatia cioè non è stata un'operazione corretta perché lo dice la carta di Firenze lo dicono tutti non si può prediligere un'epoca storica in una fase di evoluzione del giardino cioè si utilizza se mai si vuole intervenire sull'ultima epoca storica se il giardino è ancora presente lì era ancora presente non tenuto bene anzi messo molto male però l'ultima l'ultima faccia l'ultima diciamo l'ultima configurazione conformazione del giardino era quello ottocentesco dato lì da Maria Luigia ecco questo e anche nella comunicazione e anche nella comunicazione sarebbe importante chiarire questa cosa insomma ma semplicemente per così proprio per dare una visione corretta ecco poi qua c'è il giardino Ducali Sassuolo quale poi il progetto è stato condiviso con la dottoressa Ambrosini quando era in sovintendenza regionale e qui anche qui appunto c'erano dei gran prati però rimaneva il tracciato la vasca il tracciato del canale di Modena sinuoso e le due guglie o obelischi per cui è stato fatto una diciamo una rievocazione basandosi anche qui su documenti storici d'epoca e l'obiettivo è stato quello di dare di rievocare lo spirito di un giardino alla francese di un giardino barocco ecco chiusa la parte diciamo dei giardini storici uno spunto uno sulla conoscenza cioè la situazione attuale generale diciamo dell'Italia e locale delle miglia romani fondamentalmente pochi studi storici censimente e catalogazioni fenomeni sono parziali scarsa conoscenza specifica anche da parte degli attori cioè da parte dei proprietari da parte dei manoprentori da parte dei consulenti tecnici e anche da parte degli organi controlli se ne parlava prima diciamo privatamente sulle soprintendenze tecnici comunali che non hanno personale formato adeguatamente perché possa avere un'idea precisa dell'oggetto di cui si sta parlando per quanto riguarda la conservazione ci sono delle criticità soprattutto ma non solo per i giardini storici privati costi manutentivi elevati i cambiamenti climatici il cambiamento climatico che crea dei costi aggiuntivi e delle attenzioni aggiuntive come le irrigazioni di soccorso o anche interventi di tipo fitosanitario per la presenza di nuovi insetti che mettono a rischio le popolazioni vegetali e spesso i proprietari cosa fanno interventi minimi di messa in sicurezza per evitare che gli alberi corlando creino danni la rimozione delle piante morte quindi alberi arbusti secchi spesso non sostituiti e talvolta vengono fatte le sostituzioni ma senza tener conto del contesto storico in cui si interviene la maggior parte per quanto riguarda un ipotetico garden tour cioè un tour diciamo una valorizzazione anche in chiave turistica e di fruizione pubblica dei giardini storici dell'Emilia Romagna ci sono delle criticità le criticità sono fondamentalmente legate ai costi di manutenzione abbiamo già detto ai giorni orari di apertura perché il maggior flusso fondamentalmente è sabato e la domenica e per privati cioè diventa difficile gestire magari gli impegni familiari con le aperture pubblico per i piccoli giardini poca convenienza assumere il personale ad hoc per la gestione di queste visite e poi ecco un'altra cosa gli eventuali introiti dal biglietto d'ingresso per i privati diventano un aumento un incremento del reddito e quindi diciamo sono disincentivati a farlo il cosa si potrebbe fare per esempio una questo a livello comunale una detassazione della tassa di proprietà cioè se tu mi garantisci non so 90 100 120 giorni di apertura all'anno io l'imu non te la faccio pagare per esempio questo potrebbe essere un'idea oppure una compensazione dei costi di manutenzione con gli introiti cioè tu mi consenti di mettere a reddito cioè in detrazione i costi di manutenzione del giardino e io metto a reddito il biglietto oppure viceversa troviamo una formula per cui il costo di ingresso del giardino non va a influire sull'IRPET insomma e poi eventuale questo è sempre una cosa sempre più difficile eventuale contributo pubblico alla manutenzione purché venga appunto assicurata un'apertura per un periodo ragionevole di tempo ringrazio e vi saluto grazie a tutti